in diretta dal festival di sanremo qui con noi c'è Rocco Ant ciao Rocco salve ciao tu con un rap porti la tua campagna il desiderio di rinascita della campagna raccontaci un po di questa canzone ma il brano intitolato un giorno buono letteralmente un giorno buono un sogno finalmente io che mi sveglio e trovo tutto a posto insomma la mia terra finalmente felice che che sorride un po il desiderio di tutti quanti noi vedere la campagna il sud soprattutto l'italia finalmente sorridere senza tutti questi problemi che stanno avvolgendo negli ultimi negli ultimi tempi il problema non riguarda i problemi che affrontano la traccia non riguardano solo la campagna ma bensì tutta l'italia tutta la mia generazione e i giovani che non sono solo il presente ma diciamo anche il futuro di questa nazione e quindi ho deciso di portare questo pezzo al festival non sarei mai andato al festival saremo con un altro brano e ho deciso di rappresentare appunto questa fascia in questo momento la più la più debole la più fragile quindi se non ci parlo io con questa gente che ho la loro età che vengo da quel posto chi l'avrebbe fatto ecco una cosa che mi ha colpito del brano è la spontaneità secondo me ti è proprio uscito dall'anima non c'è niente di artefatto niente di costruito è un'impressione effettivamente pertinente a com'è andata la costruzione di questo pezzo sì io diciamo che sono così anche nella costruzione degli altri brani insomma questo è qui in modo speciale l'ho sentito sulla pelle no vengo da salerno quindi a pochi chilometri dal dall'epicentro della terra dei fuochi notti questi problemi che stanno avvolgendo la campania e quindi ho avuto il bisogno la necessità e la responsabilità di incidere questo brano e dio ha voluto che diciamo la portassi al festival di sanremo e quindi sono sono già contento così è strettissima attualità e tra l'altro dici terra dei fuochi ma questa non è la terra dei fuochi la terra del sole è bello anche il video che hai scelto ci sono tante immagini davvero evocative quasi un book fotografico diciamo varie diciamo abbiamo catturato dei momenti di una giornata positiva diciamo per i vicoli di napoli col sole sì sì col sole la tazza la tazza di la macchinetta col col caffè mia madre mio fratello piccolo quindi diciamo la la giornata perfetta però la giornata perfetta è fatta di cose semplici io sono convinto che anche il cambiamento è fatto di cose semplici e quindi chissà che con un brano non posso non si possono muovere smuovere delle coscienze soprattutto qui nel trato della musica italiana porto un brano importante quindi speriamo bene tra l'altro ho visto un dato impressionante questa mattina sei primo in classifica col tuo album l'hai visto sì davanti a lisa davanti a ligabue che effetto ti fa un bel effetto soprattutto però voglio ringraziare appunto chi i miei supporti diciamo hanno reso possibile questa cosa e speriamo che sia un inizio insomma di questa bellissima settimana un sogno del dopo festival di sanremo dove ti vedi ma mi vedo sicuramente nel ruolo in cui sono adesso del poeta urbano quindi senza snaturare quello che sono però comunque è chiaro che il festival di sanremo dà una credibilità che ti permette di lavorare con altri musicisti altri diciamo collaboratori e addetti ai lavori diciamo che questo festival di sanremo ti fa conoscere non è che ti dà il talento però lo fa conoscere a più persone possibili insomma in bocca al lupo però quanti crepi ciò maniamo lupo e che sia new york buona grazie a tutti grazie a tutti